vediamo le notizie della settimana arena arriva su mac con l'aggiornamento di giugno insieme a brawl come formato stabile burrasca nella scena artistica di magic noah bradley allontanato per le sue azioni bentornati ad una nuova edizione di mtgtg io sono lazze e con egaw siamo qui per fornire le novità più importanti nel mondo di magic the gathering il mese di giugno si è concluso con l'atteso pre-release di m21 che dopo icoria ha fatto tornare giocatori nei propri negozi di fiducia intanto il nuovo set è già sbarcato su arena con l'aggiornamento di giugno che ha portato alcune importanti novità come preannunciato da tempo il client è ora disponibile anche per gli utenti mac wizards in questo caso si è appoggiata interamente al partner epic games da cui è possibile scaricare e installare arena presso il loro store anche grazie alla mente lei dei giocatori è stato modificato il sistema di protezione duplicati per le rare come sempre se abbiamo quattro copie di una carta non potremo trovarne altre aprendo delle buste ma ora si conteranno a tutte le copie anche tra set diversi questa nuova protezione si applica quando una carta rara viene ristampata con la stessa art come il ciclo di templi in m20 e m21 se ad esempio abbiamo tre templi della rivelazione di m20 e uno di m21 non potremo trovarne altri finché non abbiamo collezionato tutte le rare di ciascun set per quanto riguarda jumpstart l'arrivo è confermato per il 16 luglio con degli eventi limite dedicati dopodiché le carte saranno normalmente craftabili tramite wildcard e saranno legali solo in historic l'ultima grande novità è che finalmente brawl sarà considerato un normale formato a cui potremo accedere tutti i giorni e sempre in maniera gratuita è stato anche chiarito che i comandanti aggiunti tramite la gildo negli ultimi mesi non saranno più legali con la rotazione di ottobre seguendo la normale legalità di standard continueranno invece le sperimentazioni con gli eventi brawl historic e finalmente arena arriva anche su mac è una cosa che avevano detto che sarebbe arrivata da molto tempo e l'hanno fatta uscire quasi all'improvviso perché con un preavviso proprio di un paio di giorni però ci saranno molti giocatori contenti di questa cosa perché finalmente possono giocarci anche da mac molte persone magari non avevano un pc e quindi erano tagliate fuori dal gioco assolutamente poi allora questo è il primo step io ancora sto aspettando con ansia la versione mobile mi rendo conto che sarà più difficile da implementare rispetto a quella mac pensiamo ad esempio a i competitor tra virgolette di di arena che sono hearthstone e legends of run terra l'ultimo che è uscito sono giochi nati per essere mobile o comunque erano già pensati per essere mobile magic deve fare un lavoro diverso deve fare un porting per un gioco che è nato desktop per pc e in questo caso anche per mac quindi vediamo un po come lo implementeranno ma sono sicuro che dopo che uscirà per mobile ci saranno ancora più giocatori che che useranno che utilizzeranno magic arena invece finalmente abbiamo una data per jumpstart sono molto curioso di vedere come saranno gli eventi organizzati che eventi ci saranno su arena che eventi ci saranno nei nei negozi e vediamo anche come come evolverà il meta dopo che le carte di jumpstart entreranno entreranno su historic sì come abbiamo già detto sarà un pool enorme di nuove carte quindi sicuramente il formato verrà cambiato probabilmente in maniera positiva speriamo ci saranno nuovi mazzi che sorgeranno altri avranno dei nuovi pezzi quindi vedremo come come evolverà un'altra cosa a proposito dei nuovi formati diciamo sottolineerei l'arrivo finalmente di brawl tra i formati veri e propri adesso finalmente possiamo giocarci quando vogliamo non è ancora ladder quindi non possiamo salire nei ranked però è comunque la possibilità a tutti di giocarci quando si vuole senza dover aspettare di chiamare un amico o pagare una cifra enorme per entrare nel nell'evento apposito secondo me questa è un'ottima novità perché da una valvola di sfogo a molti giocatori intanto che semplicemente preferiscono il formato brawl e in secondo luogo a giocatori che comunque giocano standard ma ogni tanto vogliono cambiare un po soprattutto in periodi che il meta è un po più è un po più stagnante e quindi ci si ritrova sempre le stesse carte sempre gli stessi mazzi e ci sta a dire ok adesso mi faccio una bella partitina brawl il rinomato artista noah bradley è al centro dell'attenzione dopo aver pubblicato una lettera di scusa per il suo comportamento in cui ammette di aver abusato più volte di donne all'interno della comunità di magic sfruttando la sua posizione e fama durante eventi e convention la risposta di wizard non si è fatta attendere il giorno seguente ha fatto sapere con un comunicato sul suo sito ufficiale che avrebbe allontanato dalla comunità l'artista e che i suoi lavori non verranno più utilizzati né per il materiale promozionale né nella stampa di nuove carte escluse quelle già in una fase troppo avanzata della produzione anche il lavoro di teres nielsen è stato al centro delle polemiche negli ultimi giorni l'artista che aveva dimostrato interesse per l'estrema destra e le idee transfobiche su twitter era stata criticata duramente l'anno scorso ora l'inclusione di realistic studies nelle ristampe di jumpstart è stata accolta in maniera negativa wizard ha specificato che dopo zendica rising ad ottobre in cui comparirà un'altra ristampa con un suo lavoro non ci saranno altre carte firmate dall'artista e che da tempo non le commissionano nuove opere per concludere con una nota positiva rebecca guai ha confermato che starebbe partecipando ad un nuovo progetto che le permetterà di tornare a lavorare a magic the gathering la risposta di wizards è stata molto immediata almeno per quanto riguarda il caso no a bradley e questo ci fa capire che ha una posizione ben precisa per certi tipi di dinamiche che possono avvenire all'interno della community certo in questo caso nello specifico è stato importante agire immediatamente per far capire che questo è un comportamento inaccettabile e è molto più complicato quando invece si parla degli altri casi per esempio quello di teres nielsen in cui non si parla effettivamente di azioni del tutto condannabili ma l'espressione di idee che possono essere più o meno in questo caso d'accordo o non d'accordo con il resto della comunità quindi lì è il momento in cui si inizia a parlare di libertà di espressione contro censura o semplicemente idee diverse quindi la comunità inizia a spaccarsi un po di più esattamente parliamo di opinioni contro delle azioni quindi è normale che la community possa spaccarsi di più all'interno all'interno di questo ambiente e nello specifico teres nielsen è stata accusata di simpatizzare tra virgolette per quello che viene definito il movimento terf che ricordiamo essere un movimento femminista che è diciamo trans esclusionista quindi contro contro le persone trans e questo è stato secondo me anche accentuato dal fatto ad esempio un evento particolarmente significativo è stato quando autumn bruschette nel mythic championship nella sua sesta edizione ha per protesta modificato le proprie terre scrivendo appunto frasi contro il movimento il movimento terf quindi in questo caso vediamo una una spaccatura all'interno della community ma anche questo movimento sta prendendo piede nel tempo un esempio che mi è venuto in mente recentemente ad esempio jk rowling l'autrice di harry potter è stata anche lei accusata di accusato quantomeno additata come simpatizzante per questo per questo movimento quindi sono dinamiche molto complesse e mi rendo conto che anche da parte di wizards sia difficile gestire questo tipo di opinioni certamente perché appunto sono argomenti spinosi e wizard è comunque un'azienda quindi non può neanche imporsi come faro morale per questi tipi di argomenti però quello che ha sempre cercato di fare wizard è promuovere una politica di inclusione all'interno del suo gioco quindi chiaramente alcune idee come diciamo che escludono alcuni tipi di persone sono comportamenti che wizard non vorrebbe avere all'interno della comunità quindi chiaramente questi sono le cose che cerca di fermare ci sono persone però che con l'idea della libera espressione dicono no vabbè lasciate fare lasciate esprimere ognuno la propria opinione e sottolineando poi che questo è solo un gioco e quindi non è importante diciamo che è sempre molto controverso appunto perché come si può dire non si può cercare di di appellarsi sempre al diritto di espressione se le idee che poi si vogliono esprimere sono quelle di oppressione e di escludere alcune persone quindi dalla comunità quindi sicuramente wizard ha una bella gatta da appellare in questo caso assolutamente abbiamo parlato di persone che se ne vanno parliamo anche di persone che rientrano almeno all'interno della di quelli che sono tutti gli artisti di magic e abbiamo parlato di Rebecca Gay sono molto contento del ritorno si è rallontanata perché aveva altri progetti per la testa e sono contento perché ultimamente magic sta mantenendo uno stile molto realistico nelle arte delle carte e sono contento un ritorno di Rebecca Gay che darà almeno un po di di varietà allo stile allo stile illustrativo quindi ad esempio carte molto belle come bitter blossom abundance o anche l'ultimo patto exile promo ci hanno fatto vedere che anche un'arte molto diversa dal dal solito è molto gradevole molto molto apprezzata dai dai giocatori certo è un altro artista che abbiamo visto avere uno stile molto forte in questo periodo è stato sebb mckinnon che anche lui grazie a questo stile molto riconoscibile sta avendo molta fama il fatto però che il resto del gioco diciamo risulti un po più piatto secondo te secondo me è un po controverso anche lì perché dal punto di vista anche di wizard e della gestione di magic come brand il fatto di avere delle immagini più simili aiuta a rafforzare quella che è un'unica un'unica immagine del gioco quindi devono cercare di avere un equilibrio tra i due elementi è chiaro che appunto come dici certe art certe art diventano molto iconiche alcuni artisti sono sempre riconoscibili per il loro stile e quindi diventano quasi degli eroi diciamo delle degli esempi sì mi piace molto l'idea che ognuno abbia il suo stile però come dici te è giusto che wizards mantenga un'identità no anche un'identità di lore un'identità di stile che sia riconoscibile in tutto il mondo però sono anche contento che comunque negli anni si sta mantenendo anche questa varietà stilistica per molte persone magic non è solo gioco è anche collezionismo e quindi anche valorizzare una carta per la sua art credo sia un punto molto importante e soprattutto un qualcosa che ne aumenta il valore sia di gioco sia intrinseco dell'art stessa e voi siete riusciti a partecipare ai pre-release cosa ne pensate delle ultime decisioni di wizards fatecelo sapere nei commenti e come sempre ricordate di mettere mi piace al video condividere e di iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di magic the gathering ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale come ogni settimana vi aspettiamo per l'MTGTG da Egao e Lazze ciao e alla prossima